Tagli, soppressioni di corse, 200 da ultimo quelle soppresse, la richiesta in vigilanza perché tutto ciò accade in quanto c'è una grave sofferenza delle maestranze, tre anni di legislatura di questo governo regionale, della giunta lenta senza alcuna assunzione e dopo uno scontro molto acceso tra le parti sindacali, le organizzazioni sindacali e il management di tua finalmente anche grazie al nostro lavoro, all'opposizione, i primi bandi. Peccato che questi bandi vanno ancora una volta a sofferenza del personale perché tolgono ed è inaccettabile la cosiddetta contrattazione di secondo livello, quella aziendale, sostanzialmente quello che si fa finta di combattere il precariato sostanzialmente lo si legalizza, lo si normalizza con un dumping salariale che ha costretto le organizzazioni sindacali a indire i primi scioperi per quanto riguarda il comparto e il settore dei trasporti. Ecco perché la commissione di vigilanza di oggi, richiesta dal Partito Democratico per accertarci delle carte che ci venivano in qualche modo annunciate, anche sollecitate, che finalmente abbiamo avuto e che dimostrano quanto le organizzazioni sindacali denunciano. I gravi disservizi che le utenze tutte, dai pendolari al lavoratore agli studenti, debbono e sono costretti a soffrire, vengono dalla mancanza della programmazione della Giunta Marsiglio, dal taglio ai trasporti e da un management sordo alle richieste di assunzione e agli appelli delle organizzazioni sindacali. Oggi otteniamo che finalmente nei prossimi giorni si riaprirà il tavolo, speriamo ovviamente di poter aver dato oggi un contributo ma di poterlo verificare nei prossimi giorni.